Buonasera, siamo con un veterano del Monte Falcone Padel Village, siamo con Francesco Bucci, ciao a tutti, grazie per l'accoglienza, grazie a te, allora tu stai per disputare questa partita, il numero di partite c'è arrivato di questo giro, oggi siamo alla seconda partita e sono convinto che faremo bene, la prima è andata male, abbiamo perso per oggi, mi sento molto profiducioso, considerato che sono solo le 22, quindi dobbiamo scaricare l'ansia, l'ascensione tutta la giornata, bene, quindi i presupporti ci sono, l'obiettivo finale va raggiunto, è l'importante divertirsi però, assolutamente, quindi diciamo che la carica c'è, adesso alla fine della partita ci farai sapere come è andata, noi ti auguriamo i video, grazie, grazie, ti vediamo abbastanza carico, che vinca il migliore, ma l'importante è che vinca il migliore, bene, allora, in bocca al giù per la partita, e buon proseguimento, grazie, grazie.